Cosa sono le collab house? Sono delle vere e proprie case di collaborazione dove i creator vanno ad abitare insieme non solo per avere un ambiente oggettivamente bello per creare contenuti, ma anche essere più produttivi, quindi avere un ambiente stimolante, ma anche per creare video insieme. Questo fa sì che gli utenti che guardano questi creator siano influenzati, quindi a seguire anche tutti gli altri abitanti della casa. Spesso per entrare in queste house ci sono dei veri e propri contratti con dei vincoli. I vincoli potrebbero essere fare almeno un video al giorno, oppure quello di fare video con gli altri creator, o creare delle collaborazioni con degli sponsor. Il fenomeno delle collab house è nato in America, infatti la più famosa è sicuramente quella di Gia Leda Melio, ma ci sono anche qui in Italia, infatti la prima è stata la The House con Alessia Lanza, e poi si sono sisseguite anche la Stardust House, la White House e altre piccole house. Le house sono sicuramente un fenomeno vincente, non solo perché appunto si è portati a seguire tutti i membri della casa, ma anche perché spesso si creano dei rumors o delle ship che appunto mettono ancora più in luce le house. Invece a voi piacciono le house? Qual è la vostra preferita?